Good morning in Genova. Gli insegnanti parlano troppo. Parlare è il nostro mestiere, ma è chiaro che spesso la situazione ci sfugge di mano. In classe gli insegnanti vogliono silenzio, mica soltanto perché hanno delle cose da spiegare. Gli insegnanti vogliono silenzio soprattutto perché vogliono essere gli unici a parlare all'interno dell'aula. Io sono convinto che ci siano colleghi che sognano interrogazioni con interminabili domande intermezzate da brevissime risposte degli studenti, tipo sì, no, forse, bah, non mi ricordo. L'apoteosi è in aula insegnanti. La mattina c'è una collega che arriva e comincia a lamentarsi di quel gruppo di adolescenti che ha incontrato sull'autobus, che si è rivolta a lei in maniera maleducata, che lei è alla loro età col cavolo che si sarebbe sognata di parlare così a degli adulti. Poi c'è il collega che se la prende con il computer, perché non è possibile che il programma smetta di funzionare soltanto quando io mi siedo alla cattedra. Quell'altro invece che ce l'ha con l'armadietto, che ieri aveva infilato il libro dentro e oggi non c'è più. Ma com'è possibile? Poi c'è il collega che si sfoga con un altro dicendo che la mamma, ottantenne, ancora gli fa difficoltà la sera quando deve uscire. Poi c'è invece il collega che prova semplicemente a chiedere un'informazione. Scusate, sapete mica quando è la data del prossimo collegio? Ovviamente nessuno se lo considera perché ognuno è dentro i propri discorsi. Io ovviamente non sono da meno, anche se a me salva una cosa. Io odio il mattino e soprattutto ho difficoltà a relazionarmi con le persone che parlano molto. Parlo poco ad alta voce, ma dentro la testa mi faccio dei film che ciao. Questa mattina ho incontrato Giovanni. Giovanni è un collega che insegna nella mia scuola da sempre. Io credo che quando hanno finito di costruire la scuola Giovanni era già fuori dalla porta pronto per entrare. Giovanni, come molte altre volte in quest'ultimo periodo, comincia ad attaccare sempre col solito discorso che non è possibile che ci fanno venire a scuola perché è pericoloso, è come è possibile che ci fanno venire a fare i laboratori, che poi dobbiamo seguire i ragazzi di sostegno ma non ci pensano alla nostra salute. Mentre Giovanni si inoltra nei meandri di questo suo discorso, nella mia testa partono i titoli di apertura del colossal mattutino. Io ovviamente sono il protagonista e la prima cosa che mi viene da dire è Giovanni, scusa, ma Belin, com'è possibile? A marzo la didattica a distanza era una cosa che non andava bene, che non è possibile, che la didattica si fa solo in presenza, adesso invece questa cosa non vale più, bisogna solo andare a didattica a distanza. Non capisco. Che poi devo dire che io questo tipo di discussioni le provo anche a seguire sui social, didattica a distanza sì, didattica a distanza no, però sui social ho veramente difficoltà a seguire le discussioni. L'altro giorno ne guardavo uno su Orizzonta Scuola, quello che si lamentava perché il ministro prima non faceva i concorsi, adesso invece si lamentano quelli che questo ministro ha deciso invece di farli i concorsi. Ogni tanto io ho l'istinto di provare a intervenire all'interno di queste discussioni, ma poi mi allontano perché già lo so che il colossal diventa uno splattere e io finisco ad essere peggio della protagonista di Kill Bill. Nel frattempo il discorso di Giovanni è andato avanti ed è arrivato al punto in cui moriremo tutti. Io lo fermo e gli dico Giovanni, guarda, scusa, mi devo andare, faccio lezioni e parto verso l'aula. Nel percorrere il corridoio mi viene in mente che il giorno prima non avevo guardato i dati che riguardavano positivi, ricoverati, terapie intensive. Così prendo il cellulare, faccio presfogliare la rassegna stampa e mi cade l'occhio su una notizia. Anita, 12 anni, una studentessa che da giorni sta protestando davanti alla sua scuola contro la didattica a distanza. Lei vuole andare a scuola. Una studentessa che protesta perché vuole entrare a scuola. Professori che non ci vogliono andare, studenti che invece protestano per entrare. Io entro in classe e saluto i miei ragazzi. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Io ho la solita favola, però questa mattina non fatemi domande perché a me questo 2020 mi ha tolto ogni certezza. Io sono Fabrizio Gelli, sono un docente e in questa rubrica vi faccio vedere la scuola vista da dentro.